Benvenuti a tutti voi che ci state guardando lì dal web, su Facebook, YouTube, Twitter, dal PC, dal Mac, se siete tablet people va bene lo stesso e grazie a voi che ci guardate su TV7 Digital. Io in questa edizione mi sento un po' più nottambulo, sapete perché? Perché ritorna il programma pioniere nel sannio e non soltanto dopo sette anni di messa in onda in TV e web ed anche Beat Frequency Records on stage, la rubrica dedicata a DJ, producer, voice. In che senso? No, no, proprio quello. Infatti con le hands potete promozionare prima il vostro evento, il vostro spettacolo, il vostro clubbing, la guest con i nottambuli TV, avere tutto quello che è successo in onda e continuare a farvi vedere, ma davvero non a chiacchiere, restate con noi. La sai l'ultima? Quest'estate il top del gusto e del buon gusto è di scena al Bay Park Hotel. Bay Park Hotel, alle porte della città, una struttura unica ed accogliente. Non perdere la novità dell'estate, tutti i venerdì cena a bordo piscina e musica dal vivo. Bay Park Hotel, con trada epitafio, strada statale Appia Benevento. Prenota subito il tuo tavolo, 0824 36 00 16, bayparkhotel.it La prima notizia riguarda il clubbing. Quello che trovate sulla strada statale Appia tra Benevento e Caserta, Tuffara Valle e parliamo del Tuntuneco Club. Questo sabato vede ospite il tronista più amato, quello più acclamato, il più bello insomma per intenderci, Francesco Monte. Li Public Relation and Events Communication è Essential, Billy Cillo e Jerry Brown, Tuntuneco Club. Spostiamoci nel Molisagno, precisamente a Ponte Landolfo e se quest'estate continua, anzi non continua a fare i capricci, è la volta dell'apertura dell'Ortus, il giardino di Landolfi, a Ponte Landolfo e sul web landolfi.it, oltre che ovviamente su Twitter, YouTube, Facebook e tripadvisor.it. Restiamo a Ponte Landolfo per un'altra chicca, un'edizione, la sedicesima, del Luffy Fest, o meglio del Festival Italiano del Folclore. Volete conoscere il programma? Beh, basta comodamente cercare l'evento su Facebook. A Benevento, inviale Antonio Meliosi, Tristor Gold. I maghi del risparmio, da 50 centesimi, in su, detersivi, oggettistiche, articoli per la casa e da regalo, igiene personale e tanto altro ancora. In via Napoli a Benevento, all'altezza della Farmacia Italiano. La consegna a domicilio è prenotabile entro le ore 12. I maghi del risparmio. Luglio col bene che ti voglio, aiaiaiaia. Parliamo di Made in Sud, o meglio di Gigi Enros con tutta la combriccola di Scalmanati e ovviamente anche di Anna Marini. Made in Sud, Arena Musa, il 12 luglio. Stessa data, ma ci spostiamo nel Molisagno a Morcone ed è la volta del clubbing. Guest star, il DJ Claudio Coccoluto, dove? Kibanda Club. Ah, a proposito di Kibanda Club, nell'Opening Summer della scorsa settimana ha fatto numeri nel sannio da fare invidia a tutti, da capogiro. Kibanda Club. Casa del cane di Marco Zabatta e Maurizio. Lavaggio e toletatura a cani e gatti. Bagni medicati, taglio a forbice, stripping, vendita a mangimi e accessori. pensione per cani, dove? In via Perinetto 2 a Benevento, tra Viale Atlantici e Viale Mellusi, proprio alle spalle del Palazzo degli Uffici. Anche servizio a domicilio. Casa del cane. La cucina di Landulfi è aperta fino alle 2 di notte? Landulfi.it Per il vostro shopping trainer, beh, vi parlo di Top Smart No Tax Galaxy S4 Samsung incluso a 0 euro. Dove? Beh, ma parliamo di 3 store gold in Viale Mellusi a Benevento. Cosa dirvi? Beh, continuate a guardarvi le ansia. Non fatevi venire l'ansia. I notteambuli TV sono ritornati on air. E soprattutto volevo ricordarvi una cosa. Noi siamo, come dire, molto, molto fieramente rudimentali. Ciao. Noi siamo, come dire, molto, molto fieramente.